Stasera è la prima puntata, parliamo di soldi, la speranza di farli e non di farseli fregare, puntata bella densa di contenuti, cercheremo di essere chiari e fare in modo che non solo noi si possa verificare quello che diciamo o quello che si trova in internet, ma a tutti venga quella sana voglia di cominciare a controllare, cercare di capire cosa succede, perché la rete è bellissima ma è piena di trappole. Grazie